Ciao a tutti amici orceani vicini e lontani. Oggi è il 5 dicembre 2013 e i nostri agricoltori sono ancora sul Brennero ad impedire il passaggio ai tir carichi di merci false made in Italy. Dopo circa un mese siamo tornati dietro la ex fabbrica Cucineurcis per controllare la situazione abbandono rifiuti, che c'era apparsa tanto disastrosa ma che speriamo abbia subito una svolta positiva. Purtroppo, come potete vedere dalle immagini, la situazione non è migliorata ma è invece drasticamente peggiorata. Rifiuti di ogni genere inquinano la zona, dando vita ad una vera e propria discarica a cielo aperto. A quanto pare il nostro ultimo appello non ha sortito alcun effetto. C'è ancora chi infatti, nonostante la comunità che offre la raccolta porta a porta, ammassa in questa zona sporcizia di ogni genere, senza curarsi del rispetto ambientale e della salute pubblica. Sappiamo però che la polizia locale provvederà più presto all'ispezione di questi sacchi per individuare l'identità dei colpevoli che verranno giustamente sanzionati. Sentiamo ora il moderato appello che Mario si sente di rivolgere a tutti i gentiluomini e a tutte le gentildonne responsabili di questo scempio ambientale. Don Luciano, scusaci ma tappati un attimo le orecchie. Sei un bastardo, schifoso, stronzo, faccia di merda, vergognati, ignorante. Chiudiamo qui il nostro servizio, sperando che il Tele Orsi non debba più occuparsi in futuro di queste ignobili situazioni. Ciao a tutti, alla prossima puntata dell'ETG Orsi.